Diciassettesima edizione dell'annual meeting di urologia territoriale presso l'auditorium della casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo con noi il dottor Giuseppe Di Giovacchino. I illustri relatori hanno animato questo appuntamento che si chiude con un bilancio nettamente positivo? Io direi proprio di sì, soprattutto per la partecipazione qualificata di quelli che sono i big della urologia nazionale e internazionale. Mi riferisco chiaramente al professor Gallucci, al professor Muto, al professor Puppo, al professor Diana e anche questi, diciamo, nostri colleghi con i quali abbiamo un rapporto più costante come il professor Schips, il dottor Di Clemente, il dottor Pompa e con i quali collaboriamo tantissimo. La novità di quest'anno è in pratica l'inserimento della medicina personalizzata. Medicina personalizzata che è la cosiddetta medicina di precisione. Qual è il background, diciamo, di questa evoluzione? Diciamo parte dalla nostra esperienza presso la ASLE di Pescara con il day service di urologia. Abbiamo cominciato nel 98 con un progetto, diciamo, pilota, denominato appunto day service urologia territoriale che in pratica era un nuovo modello sia assistenziale che organizzativo non più centrato sulla singola prestazione ma sulla presa in carico del paziente, ovvero sul problema clinico. Una presa in carico che si deve articolare anche oggi, diciamo, attraverso i vari momenti dell'approfondimento diagnostico e della gestione assistenziale di tipo conservativo e non conservativo. E' molto importante che questa presa in carico riguardi le patologie croniche che necessitano di frequenti monitoraggi e patologie non a carattere di cronicità ma complesse dal punto di vista clinico-gestionale. E' chiaro che il miglioramento della proprietà dell'uso delle risorse e l'ottimizzazione della qualità della pratica clinica si possono realizzare solo attraverso dei percorsi condivisi in ambiti multidisciplinari e con, diciamo, anche l'aiuto della multimedialità che è molto importante. Oggi con la riduzione degli organici non è sempre possibile riunire tutte le figure specialistiche attorno a un tavolo però con l'aiuto delle web conference, teleconferenze, virtual grand meeting e tutto il resto in pratica possiamo, diciamo, ovviare a questo. Durante i lavori, dottore, si è parlato anche di intelligenza artificiale. In cosa consiste nello specifico? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che oggi il medico è subissato, diciamo, di dati che si caratterizzano per il loro volume, per la velocità, diciamo, trasformazioni in senso tecnologico e tutto il resto poi anche per la varietà delle fonti e la variabilità di questi dati per cui chiaramente di fronte a tutto questo volume di dati l'uomo non è più in grado di poter, diciamo, analizzare, raccogliere e poi provvedere al problem solving e quindi chiaramente c'è bisogno di complessi algoritmi complessi algoritmi, diciamo, dell'intelligenza artificiale per poter ovviare a questo. L'intelligenza artificiale, diciamo, che ci viene in supporto sia nella definizione diagnostica sia, diciamo, nella scelta dell'opzione terapeutica, nelle strategie, diciamo, preventive e nel follow-up del paziente, cercando di ridurre anche l'errore medico. Dottore, siete stati attenzionati anche dalla comunità europea per il progetto innovativo che avete presentato? Sì, noi abbiamo presentato nell'ambito del programma Horizon 2020 un progetto col titolo Il passaggio ad un sistema integrato ospedale-territorio in un'ottica di continuità assistenziale e una prospettiva multidisciplinare e multimediale. E in questo, diciamo, progetto il background è stato sicuramente la storia della mia vita professionale e quindi, chiaramente, diciamo, l'esperienza dei service. E attualmente noi cerchiamo di sviluppare soprattutto la necessità di un approccio multidisciplinare per migliorare la credibilità, diciamo, sia dei professionisti che delle strutture in quanto il paziente non deve essere più visto come proprietà di un solo specialista ma innanzitutto deve essere al centro dell'attenzione delle strutture sanitarie e dei professionisti e quello che è importante è un approccio multidisciplinare con il riconoscimento di tutte le figure professionali altrimenti, diciamo, ci saranno risorse sprecate aumenterà la pletora degli scontenti aumenterà, diciamo, la mobilità passiva aumenterà, diciamo, la conflittualità medico-paziente e con un aggravio anche economico attraverso la medicina difensiva. Professor Gallucci, l'urologia in quale direzione va? Beh, l'urologia intanto va nella direzione popolare cioè nel senso che molta più gente ha necessità dell'urologo perché l'età media è avanzata fortemente va in una direzione tecnologica sicuramente perché l'urologia è una di quelle branche che è meglio usufruito dalla tecnologia quindi la laparoscopia, la robotica, l'endorologia tutto questo va verso la riduzione della chirurgia aperta verso la chirurgia mini-invasiva con un grande vantaggio per il paziente ovviamente sia in termini di risparmio di giornate di letto operatorio sia soprattutto per la possibilità di poter tornare alle proprie attività in brevissimo tempo. Ma in tutta sincerità, la chirurgia, professor Gallucci, oggi come oggi è la panacea per tutti i mali? No, assolutamente, cioè il chirurgo deve fare un passo indietro questo è il dato di fatto perché ormai il chirurgo da solo non fa fa insieme all'oncologo, fa insieme al radiologo interventista fa insieme a tutti questi specialisti per garantire al paziente il miglior trattamento possibile questo è l'orologia etica, questo è un dato importante per cui non c'è più il chirurgo star ma il chirurgo che collabora con altri specialisti. E la medicina in questo settore che ruolo occupa oggi come oggi? La medicina, anche questa, ovviamente occupa un ruolo molto importante di appoggio, diciamo, per noi a quelle che sono le attività chirurgiche l'importanza particolare nella branca orologica che è legata al fatto che i nostri sono pazienti anziani, tra virgolette e quindi hanno molte comorbidità e per essere sottoposti all'intervento hanno bisogno di cure accessorie prima e dopo l'intervento e durante l'intervento. Che urologia si fa in Italia? Ottima, l'orologia in Italia è ottima noi siamo considerati molto bene nel mondo mediamente molto alta con alcuni punti di forte eccellenza che sono più che più bravi sono centri che si sono dedicati a particolari patologie e quindi naturalmente hanno raggiunto livelli di efficienza molto alti. Il meglio dell'urologia italiana oggi a Città Sant'Angelo in questo diciassettesimo meeting di urologia territoriale siamo con Luigi Schips ecco, professore, che momento vive oggi come oggi questo settore a livello nazionale ed internazionale? Sicuramente l'urologia è una delle specialistiche più importanti soprattutto venuto fuori negli ultimi anni anche la coscienza di sé che ha preso l'uomo rispetto agli anni precedenti e quindi l'urologia diventa sempre più importante e l'urolo centrale nella medicina con l'allungare anche dell'aspettativa di vita sicuramente ci si confronta più con dei problemi urologici. Si va sempre di più verso una medicina personalizzata che cosa vuol dire in parole povere? Beh, si cerca con le nuove frontiere della medicina di ritarriare la terapia in base alle caratteristiche del paziente e questo va sia sulla chirurgia ma anche e soprattutto sulle terapie mediche e sulle terapie innovative che ci sono soprattutto in campo oncologico. Molte delle malattie possono essere ancora curate con la medicina anche se la chirurgia è insostituibile soprattutto per certe forme di neoplasie, non è così? Ma sono due cose un po' diverse perché si integrano e sono complementari quindi si può trovare benissimo molti tumori dove si agisce prima da un punto di vista chirurgico per poi integrare la terapia con terapie mediche quindi chemioterapia, ormonoterapia e tutto quello che c'è da fare però molto dipende appunto dal tipo di malattia con cui ci confrontiamo però non è che l'una esclude l'altra. Oggi urologi da tutta l'Italia ma nella nostra regione che urologia si fa secondo Luigi Schips? Secondo me si fa un'ottima urologia io mi rifaccio sempre a uno studio che è stato fatto dalla Bocconi dove si è visto che grazie a Dio c'è una bilancia commerciale positiva nei nostri confronti cioè importiamo più patologie urologiche di quanto ne esportiamo poi è naturale che c'è un dato fisiologico di gente che migra sia per le liste di attesa i problemi ci stanno però questo non significa non fare una buona urologia anzi direi che ci siamo ci confrontiamo anche perché dobbiamo dare il meglio delle risposte agli abruzzesi lo dobbiamo e lo facciamo con tutto il cuore Giovanni Muto dall'Humanitas di Torino oggi a Città Sant'Angelo nell'auditorium della Casa di Cura Villa Serena per questo diciassettesimo meeting di urologia territoriale verso quale direzione va questo settore? Verso la medicina un po' personalizzata o la medicina su misura una medicina un po' costruita nei confronti del singolo individuo e non generalizzata per esempio la ricostruzione della vescica piuttosto che le borsette la chirurgia robotica piuttosto che quella tradizionale in base naturalmente alle evidenze scientifiche che ci sono non in base solo ai desideri dei pazienti ovviamente ma negli ultimi anni negli ultimi tempi secondo lei ha fatto più passi in avanti la medicina o la chirurgia in questo campo? io direi che sono andate di pari passo sicuramente nell'oncologia sono andate di pari passo la chirurgia però ha degli effetti molto più immediati e molto più eclatanti per cui all'apparenza sembra che la chirurgia sia un passo avanti oggi qui a Città Sant'Angelo si fa il punto della situazione tra i migliori specialisti del settore secondo lei esistono ancora i viaggi della speranza? secondo me i viaggi della speranza sono già in diminuzione e presto saranno un ricordo perché la trasmissione delle informazioni è talmente immediata che non c'è più bisogno di muovere le masse per ottenere dei risultati maggiori in altre sedi